buon pomeriggio mi verrebbe da dire ricomincio da driss buon pomeriggio driss buon pomeriggio ricomincio da driss perché driss ha ricominciato a segnare con un gol pesantissimo perché bergamo era un ostacolo era una tappa fondamentale era forse l'esame di maturità lo avete superato a pieni voti no sì l'abbiamo fatto bene è sempre difficile dopo nazionale o dopo la sosta perché la squadra noi siamo abituati a giocare il nostro gioco e quando vai via un po può essere che dimentica o qualcosa e secondo me questo partito è stato molto importante per noi perché anche bergamo una squadra che ha sempre dato un po di fastidio a noi e la squadra era molto carico tre punti sono stato molto bello tre punti pesanti l'ennesima vittoria in campionato in trasferta 0 a 1 era già successo a roma era successo ancora col crotone con l'udinese a bergamo è un segnale che questa squadra è una squadra matura driss matura sì perché quando giochi più anni insieme sicuramente la squadra cresce con lo stesso mister lo stessi giocatori allora la squadra sta in crescita sì 85 giorni senza gol in campionato come tu ami dire perché avevi fatto gol in coppa italia un attaccante 85 uno che fa gol tanti come te 85 giorni sono pesanti c'è lo sente il peso di dire porca miseria devo far gol sì sono troppi è vero in campionato ma sono troppi e la cosa per me che mi ha fatto piacere che la squadra comunque ha sempre portato le punti e questo è la cosa più importante ma per un attaccante vuoi fare gol e vuoi essere importante per la squadra e per quello il gol da bergamo è stato ancora più bello a proposito i gol belli ne hai fatti tanti quest'anno qual è per mertens quello più bello quello da solo hai detto mamma mia cosa ho fatto il gol dopo a bergamo mi ha lasciato un peso dopo il gol è stato molto bello hai fatto un gol pazzesco a bergamo fine partita nello spogliatoio tutti insieme tutti uniti l'avete voluto mandare un messaggio ci tenevate molto a quella partita e sì perché lo sappiamo che per noi la squadra per i tifosi per la città è molto importante ci siamo caricato prima della partita e quando vieni in spogliatoio e sei riuscito a fare questo ti dà emozioni ciclo di quattro partite tre al san paolo derby a benevento mare kamsic in settimana la mostra napoli nel mito ci ha detto noi se possibile vorremmo provare ad accelerare è chiaro driss che si entra nella fase più importante della stagione no sì questo è sicuro e la domenica inizia con la domenica e non dobbiamo guardare troppo in avanti dobbiamo fare come stiamo facendo la domenica è un'altra partita speriamo con tanti tifosi e con la squadra carico e continuiamo a proposito di non guardare troppo avanti io invece ti invito a guardare troppo avanti per una volta perché una curiosità tu andrai mondiali in russia col belgio ma è un belgio che a tuo avviso potrebbe fin anche puntare alla vittoria di questo mondiale driss sì perché i giocatori ci sono e la squadra ci sta senti driss io l'ho già chiesto una volta a caie con ma quando vi etichettiamo noi giornalisti con l'attacco là davanti il tridente i tre piccoletti vi incazzate oppure non ve ne frega niente no a me mi fa molto piacere perché ma cose non è molto piccolo può essere che lui infatti sai che ha detto ha detto parlate di mertenze in signe perché io sono un metro 82 è vero un metro 82 driss siamo anche sui social della società sportiva calcio napoli un tuo saluto ai tanti tifosi del napoli ciao un saluto a tutti senti driss però dimmi perché usi la maglia numero 14 sono curioso allora è una maglia che a me quando sono iniziato a giocare calcio e la squadra è in dragthals è un terzo divisione belgio belgio e mi hanno dato il numero 14 e fino lì ho sempre piaciuto il numero e non lo so a quindi te lo porti dietro dagli inizi della carriera e non lo lasciare perché poi il giorno di san valentino il giorno dell'amore sì per me il numero mi sta molto bene così diventa il tuo numero grazie drissi prego